Io sono Nick Ed io sono Arno Ed oggi andremo a caccia di fantasmi Oggi esploreremo una casa abbandonata Oggi è giorno, vediamo se gli spiriti si potranno vedere anche al di fuori della casa C'è qualcuno qua? No, non c'è nessuno, bene, proseguiamo Questa sarà l'unica entrata fisica che ci sarà Proveremo a sforzarla, visto che mi sembra sia chiusa Adesso vedremo Aaron proverà a sforzarla Intanto ho lasciato acceso il mio recorder ma Non ha digitato o captato niente Vedremo Aaron Bene, si è aperta Ecco Ok, a posto Adesso entriamo Aspetta, passa la telecamera Adesso passiamo alla telecamera Un attimo Ok, passiamo alla Daron E io salgo Perfetto Ok Bene, siamo entrati Perfetto Perfetto Ragazzi, qui è quasi buio Adesso inizieremo più approfonditamente la ricerca Per scovare questi fantasmi nascosti Andiamo C'è qualcuno qui? Sentito? Cosa? Non ho sentito niente Vabbè, passiamo avanti Ok C'è qualcuno? Che si manifesti? Se c'è qualcuno qui Ma che cavolo Hai sentito anche tu? Si 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 va a venire da là E' questa? Ok Dopo un po' di pausa Ci siamo ripresi E adesso Dopo Abbiamo trovato un pezzo di molletta caduto Non sappiamo di chi fosse Ma Non lo so E' abbandonato Qua c'è una luce Ho sentito qualcosa Qua c'è una luce Qua dentro Si Ma sembrava fare niente da là Si Ok Oh Ancora Ancora la molletta C'è qualcuno? Qui C'è qualcuno? Hai sentito? Si Cosa è stato? Non lo so Mi sembrava Non lo so Dopo approfondite ricerche Non abbiamo captato nulla Speriamo adesso In un ultimo tentativo Sennò Questo non è Un posto infestato C'è qualcuno qui? Hai sentito? Si Aaron Aaron Hai sentito? Si Anche tu? Si Cosa è stato? Non lo so Sembrava provenire Dietro di te Sei stato tu? No Non ho fatto niente Allora è dietro di te Il fantasma C'è qualcuno qui? Ripeto C'è qualcuno qui? Oh Hai sentito? Di nuovo? Ma cos'è? Non ho mai sentito una roba del genere Cos'è? Non ho idea Non veniva da qua O è dietro di te O è qua Non riesco A captare bene Forse qua dentro Ma non c'è nulla Non so Aaron C'è qualcosa di strano qui Dopo le ricerche Non abbiamo scovato niente In questo posto abbandonato Che pensavamo fosse infestato Invece Non c'è nulla In questo posto Abbiamo sentito delle voci Ma Poco Poco in confronto Agli altri posti abbandonati Di sicuro Ci ritorneremo qui Restate sintonizzati Perché Ci torneremo qui Per svelare Quali erano Quei rumori molesti